Salve amici, dopo una lunga pausa invernale di Flash Art in Tour eccoci di nuovo nel laboratorio oggi vi voglio far vedere questo supporto di pittura preparato naturalmente con il gesso liquido come vedete qui davanti ci sono i materiali usati nella maniera tradizionale per preparare questo supporto quindi il gesso liquido, la colla di coniglio si crea un impasto e si spalma sul supporto di legno in questo caso è un compensato di pioppo di 6 mm naturalmente si passano 5 mani su questo supporto ad ogni mano dovrete aspettare che si asciughi e andare sopra con il preparato con il gesso liquido che va naturalmente preparato precedentemente se vi interessa sapere tutta la procedura per preparare questi supporti in legno ma si possono fare anche di tela naturalmente acquistando la tela di juta grezza oppure di lino se avete naturalmente esigenze pittoriche importanti sapendo che il lino ha un costo sicuramente maggiore e quindi preparando questo gesso liquido che come vi ripeto se vi interessa sapere la composizione scrivete sotto al video che pubblicherò sul canale di FlashArt in Tour e poi così vi spiegherò meglio qual è la procedura da fare per adesso io vi saluto perché finirò di preparare questi supporti pittorici nella maniera tradizionale nella maniera antica diciamo con tutta roba naturale niente di chimico ok un saluto da Damo Art David Mosconi in Arte e da FlashArt in Tour alla prossima ciao ciao